Perché è importante dimensionare correttamente i cavi in un impianto elettrico? Cosa si rischia se i cavi sono troppo sottili? Come si calcola la sezione di un cavo elettrico? Se ti sei mai fatto almeno una di queste domande, allora mettiti comodo e dedicami qualche minuto del tuo tempo. Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul canale del Blog della Vela. Io sono Roberto Minoia, oggi parleremo di dimensionamento dei cavi in un impianto elettrico. Perché è così importante dimensionare correttamente i cavi in un impianto elettrico? Dei cavi troppo sottili provocano una eccessiva caduta di tensione. E la caduta di tensione a sua volta provoca dei problemi all'interno dell'impianto elettrico. Tipicamente, per esempio, i problemi più grandi si manifestano sulla linea che congiunge i vostri caricabatterie alle batterie. Dove per caricabatterie intendo qualsiasi dispositivo atto a caricare le batterie. Quindi l'alternatore, il caricabatteria 220V, ma anche il regolatore solare per esempio. Anche questo è un caricabatterie. Bene, se il vostro caricabatterie è convinto magari di emettere una tensione di 14,5V, quindi 14,5V, ma alla batteria ne arrivano 13,8V, la vostra batteria non sarà contenta. Quindi non si caricherà nel modo corretto. Oppure ci impiegherà moltissimo tempo a caricarsi fino al 100%. Potrebbe non arrivare mai ad essere carica al 100%. Questa è solo una delle possibilità. L'alternatore è la stessa cosa, no? L'alternatore esce con 14,3V, ma alla fine, a causa di un cavo sottodimensionato, alla batteria arriva una tensione troppo bassa. La stessa cosa è tra la batteria e gli utilizzatori. Per esempio, non so, la batteria è a 12,5V, deve alimentare il compressore di un frigorifero, il cavo è troppo sottile, al frigorifero non arrivano i 12,5V, ma gli arrivano 11,5V. A questo punto il frigorifero non funziona più correttamente. Magari per valori di tensione anche inferiori agli 11,5V si ferma, va in blocco. Quando il compressore parte, dopo 5 secondi, puff, si arresta. Questo è causato dalla caduta di tensione. La stessa cosa per le apparecchiature elettroniche, per esempio, che sono particolarmente sensibili ai valori di tensione corretti. Se gli arriva una tensione più bassa, cominciano a funzionare in modo non corretto, oppure si spengono addirittura. Ecco, tutti questi problemi che possiamo avere a bordo sono causati dalle cadute di tensione che sono generate da cavi troppo sottili o a volte anche da resistenze indotte sulle connessioni tra i cavi, per esempio da ossidazioni e cose di questo tipo. Ma non è questo l'argomento di questo video. Oggi parliamo solamente del corretto dimensionamento dei cavi. Da che cosa è causata questa caduta di tensione? Beh, qui bisogna fare un passo indietro. E vi devo dire che tutti i conduttori elettrici, quindi i cavi soprattutto, offrono una resistenza al passaggio della corrente elettrica. Non so se vi ricordate, in uno dei miei video precedenti vi parlavo di volt, ampere e watt, pensando alla corrente come se fosse un flusso all'interno di un tubo, un flusso d'acqua all'interno di un tubo. Ebbene, se dovessimo riprendere quella metafora dell'acqua all'interno del tubo, vi potrei dire che gli elettroni sono le molecole dell'acqua che si spostano all'interno del tubo e questo tubo offre una resistenza al loro avanzamento. Più il tubo è piccolo, più è sottile e più quest'acqua farà fatica a percorrere il tubo stesso. Gli elettroni, che quindi partono a una certa velocità dal generatore, quindi dalla batteria supponiamo, e poi lungo il loro percorso vengono rallentati da questa resistenza, arrivano a destinazione con una velocità inferiore. Questa differenza di velocità possiamo paragonarla a tutti gli effetti alla nostra caduta di tensione. Quindi mi pare ovvio che per limitare al massimo la caduta di tensione dobbiamo fare in modo di minimizzare questa resistenza, cioè di usare dei cavi che diano una resistenza più bassa possibile. Toglietevi dalla testa il fatto di eliminare completamente la caduta di tensione. Questo non è possibile, dovremmo avere un conduttore a resistenza zero, ma questo è impossibile. Sì, ci sono i superconduttori, ma diciamo che esula un po' dallo scopo di questo video. Quindi quello che dobbiamo fare è non azzerare la caduta di tensione, ma limitarla al minimo possibile affinché in quel tratto, perlomeno del nostro impianto elettrico, la caduta di tensione che inevitabilmente si verificherà non dia problemi. E' chiaro che se poi la resistenza del cavo supera certi limiti, oltre ad avere questa caduta di tensione ci saranno problemi ben più gravi. Il primo che noteremo sarà un surriscaldamento del cavo. Se voi ci mettete la mano sopra sentite che è tiepido, quindi magari arriva a 35 gradi, 40 gradi. Questo non deve mai succedere perché è indice del fatto che quel cavo è mal dimensionato in rapporto alla corrente che lo attraversa. Sicuramente ci sarà un'elevata caduta di tensione, però potrebbe anche non provocare nessun malfunzionamento. Però in ogni caso ci sarebbe una perdita di energia. Ma allora come facciamo a limitare questa resistenza del cavo? Innanzitutto va detto che qualsiasi metallo, diciamo, conduttore, ha una sua resistenza specifica, dove per resistenza specifica si intende quella resistenza che ha un cavo lungo un metro e della sezione di un millimetro quadrato. E qui abbiamo già introdotto un altro concetto, quello di sezione. Che cos'è la sezione del cavo? Allora, da non confondere con il diametro, perché spesso mi dicono ma ho usato, quando dico guarda che devi usare un cavo almeno da 35 millimetri quadrati in questo caso, magari rispondendo a qualcuno. Lui mi dice, la madonna, 35 millimetri quadrati è un cavo grosso così, perché loro pensano a 35 millimetri di diametro. Non c'entra niente con il diametro. E poi, soprattutto, non c'entra niente con il diametro di tutto il cavo, incluso la guaina, no? La guaina di protezione, la guaina isolante. Innanzitutto, questo mi pare chiaro, però non è così chiaro, perché tanti di voi magari ogni tanto me lo chiedono. Allora, la guaina non c'entra mai niente, perché non fa parte del conduttore. E poi lo stesso cavo, magari da 35 millimetri quadrati, può avere una guaina da un millimetro, ma può avere anche una guaina da tre millimetri. Quindi, alla fine, bisogna escludere la guaina e calcolare sempre la sezione sul cavo di rame interno. E poi la sezione è l'area della sezione. Cioè, come voi tagliate il cilindro del cavo e misurate la superficie del cerchio, d'accordo? Della base del cilindro. Quindi, raggio per raggio per 3,14, no? Dalle scuole medie. Raggio per raggio per 3,14, oppure, all'incontrario, se avete la sezione e dovete sapere quant'è il diametro o il raggio, basta che prendete la sezione, la dividete per 3,14 e poi fate la radice quadrata del risultato. Ottenete il raggio, quindi lo moltiplicate per 2 e avete il diametro. Ma comunque, giusto per farvi capire di che cosa stiamo parlando, un cavo da 70 mm quadrati di sezione ha un diametro di circa 10 mm. Quindi c'è una bella differenza. Quindi la resistenza specifica mi dà già un'idea del fatto che, per esempio, un cavo di rame sia migliore da utilizzare come conduttore rispetto a un cavo di alluminio o a un cavo, non so, di acciaio, no? Certo che sono tutti conduttori, però se andiamo a vedere la tabella delle resistenze specifiche, vediamo che, per esempio, la resistenza specifica del rame è di 0,017 Ohm per millimetro quadrato su metro. Mentre invece quella dell'alluminio è diversa ed è maggiore e quella del ferro, come vedete, quella dell'acciaio, come vedete, è addirittura 10 volte tanto. Quindi cosa significa? Che se io ho un cavo di rame lungo un metro e di una certa sezione avrò una certa resistenza. Se lo faccio lo stesso cavo della stessa lunghezza, della stessa sezione, ma lo faccio di acciaio, che non ha senso, supponendo, avrò una resistenza che è 10 volte superiore. Ricordatevi sempre l'obiettivo nel nostro impianto elettrico, è quello di ridurre al minimo la resistenza dei conduttori, quindi dei cavi elettrici. Per calcolare qual è la caduta di tensione del mio cavo, beh, è facilissimo, guardate, c'è la legge di Ohm. La legge di Ohm è la legge fondamentale dell'elettricità, la conoscete, credo, tutti, l'abbiamo studiata forse alle scuole medie, e la legge di Ohm dice semplicemente che V è uguale a I per R, dove V è la tensione, quindi la nostra caduta di tensione che vogliamo calcolare, e per calcolarla dobbiamo prendere la I, che è l'intensità di corrente, cioè la corrente che percorre il nostro cavo, e moltiplicarla per la sua resistenza. È facilissimo, ma veramente facile. Noi questi dati li abbiamo tutti, abbiamo I, perché I è la corrente che passa presso un cavo, quindi lo sappiamo, non so se abbiamo il frigorifero da 60 W, sappiamo che su quel cavo, quando il compressore è in funzione, passerà una corrente di 5 A. E R, E R è la nostra incognita, adesso che dobbiamo, che però adesso la sappiamo calcolare, perché sappiamo che la resistenza specifica del cavo di rame è 0,017, ve lo ricordate? Ve l'ho detto prima. Quindi la resistenza è data da questo numerino, moltiplicato la lunghezza del cavo, diviso la sezione. Per esempio, se ho 10 metri di cavo di rame, da 2 mm quadri di sezione, la sua resistenza sarà 0,017, moltiplicato 10 metri, fa 0,17, diviso 2 mm quadri, sono 0,085. D'accordo? Quindi questa è la resistenza in Ohm di quei 10 metri di cavo di rame da 2 mm quadri di sezione. Da questa formula che vedete, balza subito all'occhio una cosa, che la resistenza aumenta tanto più il cavo è lungo e la resistenza diminuisce tanto più il cavo è grosso, perché vedete che la lunghezza è al numeratore, quindi fa aumentare il risultato man mano che questa aumenta, e invece la sezione è al denominatore, quindi più aumenta la sezione e più diminuisce il risultato. Alla fine della fiera, come posso fare per diminuire la sezione, scusate, per diminuire la resistenza del mio cavo elettrico? O riduco la lunghezza, o aumento la sezione, faccio il cavo più grosso, oppure tutte e due le cose, naturalmente. L'altra cosa che si vede dalla formula è che la caduta di tensione è direttamente proporzionale alla corrente che attraversa il conduttore. Vedete che c'è I? V uguale I per R. I è la corrente. Quindi se nel mio cavo che supponiamo è lungo 10 metri e da 2 mm quadrati di sezione passano 2 A di corrente, avrò una certa caduta di tensione, ma se ne passano 10 A di corrente, avrò esattamente 5 volte la caduta di tensione che avevo facendo passare 2 A di corrente nello stesso cavo. Ecco perché i cavi vanno correttamente dimensionati in funzione della corrente massima che li può attraversare. In pratica, se voi usate un cavettino, cioè un cavo che va dalla batteria alle lampadine a LED che consumano pochissimo e quindi quel cavo sarà attraversato al massimo da mezzo A di corrente, non serve mettere un cavo da 35 mm quadrati perché voi non dovete andare a 0 come caduta di tensione. Vi accontentate di un valore che di solito è intorno al 2-3%, quindi nei nostri 12 volt il 2% sarebbe 0,24 volt, il 3% 0,36 volt. D'accordo? Quindi 0,2-0,3 volt di caduta di tensione sono considerati più o meno accettabili. Vi faccio un esempio. Ho un caricabatterie da 30 ampere, ho un caricabatterie da 30 ampere che mi carica le mie batterie, supponiamo al litio, quindi 14,2 volt. 14,2 volt sono la tensione che il caricabatterie emette. Bene, se ho un cavo da un metro che separa il caricabatterie dalle batterie, io devo considerare prima di tutto sempre due metri perché un metro è l'andata e un metro di ritorno, cioè dovete sempre calcolare la lunghezza del cavo positivo e sommarla alla lunghezza del cavo negativo. Normalmente sono due misure uguali, quindi 1 più 1, 2 metri. Ok, questi due metri, se metto un cavo di sezione 10 mm quadri, supponiamo, vi daranno una certa caduta di tensione. Calcoliamola. Allora, prendiamo la resistenza specifica del rame, 0,017, la moltiplichiamo per la lunghezza del cavo, 2 metri, e la dividiamo per 10, che sono i millimetri quadrati della sezione del cavo. Allora abbiamo che questo cavo avrà una resistenza di 0,0034 Ohm. Benissimo, adesso per la legge di Ohm, V uguale I per R, dobbiamo semplicemente moltiplicare questa resistenza per gli ampere che passano attraverso il cavo. Gli ampere sono 30, quindi moltiplichiamo per 30 e vediamo che la caduta di tensione sarà di 0,10, quindi un decimo di volt, che è una caduta di tensione totalmente accettabile. Se però la lunghezza dei cavi, invece che avere il caricabatterie a un metro di distanza dalle nostre batterie, l'avessi a 5 metri, allora i metri di cavo sarebbero 5 più 5, 10 metri in totale. Se voi rifate lo stesso calcolo utilizzando 10 metri di lunghezza invece che 2, otterrete esattamente 5 volte tanto, quindi i vostri 0,10 volt diventeranno 0,5 volt, 0,50, quindi 0,5 volt, quindi mezzo volta di caduta di tensione, ecco che comincia a essere una caduta di tensione troppo elevata, che sicuramente non vi farà caricare correttamente le vostre batterie, perché invece che 14,2 volt, vi arriveranno 13,7 volte e le batterie non si caricano comunque la tensione. Come fare? Beh, non ci sono alternative, se non posso accorciare il cavo e quindi meno di 5 più 5, 10 metri non posso scendere, allora non mi rimane altro che aumentare la sezione, portandola magari da 10 a 30 mm quadrati, cosa faccio? Riduco ad un terzo la caduta di tensione, da 0,5 passerò a circa 0,15, ecco che 0,15, 0,16, anzi 0,16 volt, sono già una caduta di tensione molto più accettabile rispetto a prima. Quindi, riepilogo, per calcolare la caduta di tensione di un cavo lungo L metri e con sezione S, millimetri quadrati, mi basterà moltiplicare la resistenza specifica, cioè 0,017, moltiplicato la lunghezza L, diviso la superficie della sezione S e moltiplicare il risultato per la corrente che attraverserà il nostro cavo. Facile, no? Chiaro che la resistenza specifica, dicevo prima, dipende dal materiale, quindi il rame è a 0,017, l'alluminio ha di più, quindi quando scegliete un cavo elettrico conduttore sceglietelo bene perché cambia la cosa. Ci sono anche dei cavi economici che sono d'alluminio all'interno invece che di rame, ma questo vi fa raddoppiare la caduta di tensione a parità di sezione e a parità di lunghezza. Quindi questa caduta di tensione che è così dannosa, specialmente negli apparati di carica delle batterie perché non ci consente di caricare bene le batterie, anzi spesso non si carichano neanche completamente. Non si può eliminare del tutto, ma ci sono poi dei modi per ovviare a questi problemi. Per esempio, i caricabatterie migliori o anche gli alternatori adesso hanno dei sensori di tensione che possono essere messi direttamente sui poli delle batterie e questi servono a comunicare la tensione che effettivamente arriva sulla batteria al caricabatterie. Quindi il caricabatterie sa che lui sta uscendo con 14,2, di là ne arrivano 13,8 e cosa fa? Allora, aumenta la tensione di uscita fino a quando sulla batteria arrivano effettivamente quei 14,2 volt che lui vuole inviare alla batteria. Ecco, questi sono sotterfugi elettronici che si sono inventati gli ingegneri elettronici per ovviare a questo problema della caduta di tensione. Però questo è un sistema che viene utilizzato solamente sui caricabatterie, sugli apparati che caricano le batterie. Non potremo mai avere la stessa cosa dalla batteria a un utilizzatore. Quindi il famoso frigorifero che va in protezione e si spegne non appena parte il compressore ce l'avremo sempre. Insomma, non ci sarà altro modo che cambiare il cavo. Non ci sarà altra soluzione che cambiare il cavo. Oppure raddoppiarlo perché questa è un'altra soluzione. Se io ho già un impianto che magari dall'alternatore alla batteria vado con un cavo da 10 mm quadrati per portarlo a 20 mm quadrati non è che devo necessariamente prendere quello, toglierlo e metterne uno da 20. Basta che ne aggiungo un secondo da 10. Quindi faccio 10 più 10 fa 20. La corrente se ne frega passa metà da una parte e metà dall'altra. Quindi in definitiva quando passate alle batterie a litio non è che sia detto che voi dovete cambiare per forza i cavi. Dovete verificare. Tra l'altro una cosa importante che molti si confondono dicono beh ma io aumento la capacità delle batterie passo da 100 Ah adesso metto 200 Ah quindi c'è più corrente e devo cambiare i cavi. no 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 questo non c'entra nulla non confondiamo la capacità con la corrente cioè la corrente che va dalle batterie ai vostri utilizzatori sarà sempre la stessa di prima se non cambiate gli utilizzatori cioè se usate la pompa autoclave o il frigorifero che è il frigorifero a 60 W quindi a 12 volt sono 5 Ah sarà 5 Ah sia che voi abbiate le batterie da 100 Ah sia che le abbiate da 1000 Ah allora da quel punto di vista non cambia nulla quello che cambia è che la batteria al litio assorbe molta più corrente in fase di carica quindi dall'alternatore dal caricabatterie se cambiate ovviamente anche il caricabatterie e ne mettete uno più potente allora in quel caso dovete stare molto attenti a questo incremento di corrente che passa lungo il cavo se magari prima dall'alternatore alla vostra batteria AGM avevate un cavo da 6 mm quadrati a volte se ne vedono da 6 mm quadrati che però portava 15 Ah e quindi gli bastava tutto sommato la caduta di tensione non era così elevata però se passate da 15 Ah mettendo una batteria al litio gliene mandate 50 Ah è chiaro che la caduta di tensione sarà 3 volte maggiore rispetto ai 15 e quindi lì in quel caso la sezione del cavo se volete mantenere la stessa caduta di tensione di prima dovrà triplicare quindi quei vostri 6 mm quadrati devono diventare 18 20 25 in genere se voi siete nel dubbio aumentate perché avere un cavo di sezione troppo bassa può provocarvi dei problemi avere un cavo di sezione troppo grande troppo elevata di problemi non ne causerà mai se non al portafoglio perché il rame costa tanto e quindi i cavi più grossi sono e più costano però io sono dell'idea che meglio fare le cose una volta sola e farle bene no ok con questa vi saluto spero di non avervi confuso troppo le idee perché gli argomenti erano un po' semplici ma difficili da sequenzializzare e mettere bene in fila mi raccomando abbonatevi al canale iscrivetevi al canale il prossimo video sarà un video in cui vi spiegherò delle busbar dei fusibili come si calcolano i fusibili dove metterli in modo tale da fare un impianto elettrico anche ordinato e bello da vedere perché no perché come diceva un mio caro amico l'ordine è ricchezza il disordine è povertà ricordatevelo grazie a tutti